Posso inserire molto semplicemente, velocemente, delle animazioni in Scratch portando delle animazioni GIF in formato GIF, delle immagini GIF animate. Allora vado in internet, sul motore di ricerca, scrivo Natale per trovare un'immagine animata sul Natale. Nella ricerca che appare sceglierò Immagini e poi, siccome la voglio animata, vado su Strumenti, Tipo e scelgo Animate. Ora avrò diverse immagini animate, queste però hanno lo sfondo bianco, io invece ne voglio una che abbia lo sfondo trasparente. Allora vediamo questa, invece è trasparente perché i quadratini mi fanno capire che l'immagine è trasparente. Quindi clicco sopra l'immagine col tasto destro e scelgo Salva immagine con nome. Si chiamerà 14, la salvo sul desktop e clicco Salva. A questo punto apro un file di Scratch e importo come sprite, nella zona degli sprite, la mia immagine GIF. Allora scegliamo questa che abbiamo importato, la apro e vedete che però non è trasparente perché mi va a coprire gli altri oggetti dello stage. Se vado in Costumi, vedo che il primo costume appunto non è trasparente, gli altri poi invece sono trasparenti, però mi resta il problema, da risolvere il problema del primo costume. Allora procedo in un altro modo. Cancello questa immagine, che non va bene, torno sul mio computer e vado ad aprire questo editor online di immagini. Si chiama Online Image Editor e lo trovate a questo link www.online-image-editor.com Allora carico qui la mia immagine, cliccando su sfoglia, piglio la mia immagine 14 GIF, clicco su apri e clicco su converti a file PNG perché questo mi dà la trasparenza poi, questo formato mi consente la trasparenza su scratch. Clicco su upload e vedo la serie delle mie tre immagini. Le dovrò salvare in formato PNG uno alla volta in modo che siano tutte trasparenti. Allora scelgo la prima, cliccandoci sopra, schiaccio su save e schiaccio salva localmente e avrà questo nome che viene assegnato in modo automatico dal programma. Vedete il trattino finale 2 PNG per distinguerla dalle altre. Clicco su ok e verrà salvata in download perché il programma le salva in download. Poi torno indietro a undo, freccia undo per tornare indietro, scelgo la seconda. Stesso lavoro anche con la seconda, save. Sempre in locale, vedete l'ha dato il numero 1 e clicco su ok. Vado indietro con la freccia undo, scendo e clicco sull'ultima, sulla terza. Salvo anche questa. Sempre sul mio computer avrà il numero 0 e clicco su ok. A questo punto torno in scratch e andrò a caricare le immagini che mi sono così salvata. Allora clicco sulla cartellina, vado in download e scelgo la prima che ha il numero 0. Le dico apri e vedete che adesso anche la prima è trasparente. La vediamo qua in costumi. Bene, aggiungo gli altri costumi cliccando sempre su carico un costume da file. Vado a prendere il numero 1, apri e anche lui è trasparente. Poi clicco e ancora scelgo l'ultimo costume numero 2, apri. Bene, adesso ho tutte e tre i frame dell'animazione che sono trasparenti, per cui non ho più il problema del primo frame che aveva lo sfondo. Ancora più velocemente posso togliere lo sfondo dalla gif animata utilizzando l'editor di scratch. Allora andiamo su costumi, dobbiamo togliere lo sfondo bianco alla prima frame dell'animazione che come vedete è l'unico che ha lo sfondo bianco. Allora vado nei colori, clicco sul vasetto e poi scelgo qui, vedete, questo in modo da togliere il colore. Con questa barra indico che non voglio nessun colore. La stessa cosa qui sotto e sopra. Devo cliccare in modo da togliere lo sfondo da ambedue questi bianchi, questi che mi colorerebbero di bianco. Primo, in primo piano e in secondo piano. Allora a questo punto clicco col vasetto qui sopra e vedete che ho tolto completamente lo sfondo. Ne resta ancora un po' qui, clicco un'altra volta e ora lo sfondo è perfettamente trasparente, come si può vedere anche dallo stage. Anzi rimarrebbe ancora qualcosa, allora ingrandisco e vado a togliere dove vedo che c'è ancora sempre cliccando con il vasetto in modo da togliere tutti i punti bianchi. Ecco, adesso posso vedere che, ecco, ce ne sarebbe ancora uno piccolo qui, devo zoomare ancora e togliere anche questo qui nella prima renna. Adesso tutte le renne sono trasparenti. Potrei toglierlo anche dalla slitta, quindi vado a cliccare anche sopra i pattini della slitta in modo da toglierlo anche da lì. Insomma, continuo finché ho reso tutto perfettamente trasparente. Basta cliccarci sopra. Vediamo.